Buonasera gente e amici d'amiche, un cordiale saluto vi giunge dalla Stella Azzurra. Quarti di finale della 4 World Cup 2013, un altro Liverpool sulla strada del Bordeaux non solo pizza. Il Toro Viola Liverpool 2 che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, mentre risponde da destra verso sinistra il Bordeaux non solo pizza. La rosa gioca anello che a sua volta ha preso la destra. Attenzione ancora alla conclusione da fuori! E delle chiaie questa volta è costretto a intervenire. Primo squillo dell'incontro. Attenzione a quello che succede all'interno dell'area, sembrava andare la rosa con il destro, uno schema, ha preso Chirico, attenzione al tempo di controllare, mette in mezzo, c'è un fischio e c'è un calcio di rigore, sul pallone messo in mezzo da Chirico. C'è stato un intervento falloso ai danni di un calciatore del Bordeaux e allora la formazione maglia bianca ha un'occasione capitale per sbloccare una gara che si stava facendo complicata. Momento importante della gara. Attenzione parte Tortori col destro! Vantaggio del Bordeaux che la sblocca dal dischetto grazie al terzo gol consecutivo di Loris Tortori. Bordeaux che sembra in controllo della gara, però dovrebbe aiutare. Attenzione a Tortori, si libera il destro di Tortori! 2 a 0! Abbiamo chiamato il gol della sicurezza del Bordeaux che arriva ora con il destro di Tortori che si gira in un fazzoletto e fa partire una rasoiata che non lascia scampo a delle chiaie e raddoppia il Bordeaux in chiusura di primo tempo. Si sta per riprendere a giocare qui alla Stella Azzurra, ribadiamo il parziale dopo i primi 25 minuti. Vede il Bordeaux non solo pizza, è in vantaggio per due reti a 0. Si sta per riprendere a giocare qui alla Stella Azzurra, ribadiamo il parziale dopo i primi 25 minuti. Vede il Bordeaux non solo pizza, è in vantaggio per due reti a 0. Anello, attenzione, palla sul destro, apre su un compagno che quindi prosegue l'azione offensiva del Bordeaux. Ancora Anello. Poi c'è la conclusione da fuori e c'è il 3 a 0! Il 3 a 0 del Bordeaux che ora dilaga trovando la terza marcatura nella ripresa. Arriago la conclusione da fuori del calciatore in maglia numero 18. Malinteso tra la Rosa e Santi. Poi c'è forse un tocco di mano che viene giudicato involontario da parte di Tortori. Attenzione, limite dell'aria, il numero 9 va al destro! È un golasso questo! Trova la tripletta Tortori tra le proteste dei calciatori del Toro Viola. Realizza un gol da antologia che sicuramente troveremo nella gol parade della prossima trasmissione. Dopo il gol del 4 a 0 anche il suo calciatore più rappresentativo, se non che è l'unico che cercava e riusciva. Attenzione, torniamo in cronaca. C'è la conclusione da fuori! È il quarto gol di Tortori. 5 a 0. Liverpool 2 che quindi incassa la quinta rete con questo destro al volo da parte di Tortori che fa poker. Scorcio finale di match, si attende solo in realtà il fischio finale del direttore di gara che arriva adesso, vince il Bordeaux non solo Pizza che schianta per 5 a 0 il Toro Viola Liverpool 2 e vola alle semifinali della 4 World Cup edizione 2013. Vabbè comunque sia, sì, qualche protesta, loro se ne sono andati. Dispiace perché alla fine è un torneo che serve per divertirsi, quindi dispiace, però va bene così.